Ma salve a tutti e benvenuti su SissiTube Allora oggi è 8 agosto quindi oggi farò l'estrazione per il vincitore del mio giveaway ovvero si vince un libro a vostra scelta Oggi si chiude appunto il giveaway ed eccoci qua sul sito per l'estrazione del vincitore Ho messo tutti i dati eccetera eccetera Andiamo subito a vedere in diretta l'estrazione Chi vincerà? Ma chi vincerà? Andiamo a vedere Let's see what's the winner now What's my destiny dragon ball? Bellissimo Il vincitore Il vincitore Il vincitore è Paolo Barucca Vediamo, clicchiamo su Sarebbe carina una rubrica di cucina dove prepari i piatti e tratti No, sarebbe carina una rubrica di cucina dove prepari i piatti e tratti dai libri Se vincessi il giveaway mi piacerebbe avere il libro Millennio di Fuoco Raivo di Cecilia Randal per regalarlo alla mia ragazza Ah, Paolo, mi ricordo di te quando hai commentato questo video e speravo che vincesti tu Ho detto, uomini romantici che regalano libri Sono contenta allora che hai vinto tu E allora, mandami un'email su SilviaLicenziato ChiocciolaHotmail.it Così parliamo per il libro che ti manderò presto a casa, ok? Ciao, ciao Ciao